L'OPE ha visto subito, mi ha seguito per tutto l'anno, ho vinto e mi ha chiamato per chiamare ufficiale nel 1973. Avevo 130 cavalli la mia macchina, mentre i Munari, i balestrieri, i manucci, i manucci avevano 280 cavalli. E a San Rebo, il rally mondiale, ho fatto il quinto assoluto con il gruppo 1. Quinto assoluto. Perché c'era molto discesa e io in discesa dovevo fortissimo. Sì, allora ti spiego subito un aneddoto. Nel 1973 la Fiat seguiva il gruppo 1, ok? A luglio aveva tre macchine che correvano. A luglio, che ha visto che non ci faceva niente contro la opera di Braille, ha smesso, ha ritirato le macchine perché non fa brutta figura. E stessa cosa è successo nel 65 all'Alfa Romeo. Uguale, a luglio sono ritirati.